Tre misure cautelari sono state disposte per fatti collegati a lavori di riqualificazione ambientale, risanamento igienico dell'alveo del torrente Cataratti-Bisconte e opere varie nel comune di Messina. Si tratta di un intervento promosso dal commissario di governo contro il distesto idrogeologico per la regione Sicilia. Sono stati gli agenti del comando provinciale della Guardia di Finanza di Messina a dare esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di tre persone, due agli arresti domiciliari e un terzo della misura interdittiva della capacità di contrarre con la pubblica amministrazione. L'indagine è scaturita dal controllo disposto dal prefetto di Messina, eseguito dal gruppo Interforze. Qui, presso un cantiere, il gestore, rappresentante di fatto dell'impresa esecutrice dei lavori, sarebbe risultato indagato per traffico di influenze illecide, aggravata dal metodo e dalle finalità mafiose, nell'ambito di indagini coordinate dalla Direzione Distrittuale Antimafia di Catanzaro alcuni anni or sono. Approfondendo le investigazioni, anche di natura tecnica, sotto la direzione ed il coordinamento della Procura della Repubblica di Messina, sarebbe messo il coinvolgimento di componenti della stazione appaltante con il rappresentante legale dell'impresa. Nell'indagine si parla di lavori edili presso abitazioni private per circa 80.000 euro, del pagamento di tasse universitarie per un valore di oltre 7.000 euro, finanziamenti ritenuti illeciti della campagna elettorale per oltre 60.000 euro, dell'acquisto di un orologio Rolex Daytona, del valore di oltre 20.000 euro, di lavori di ristrutturazione presso un noto negozio di abbigliamento di Messina per oltre 30.000 euro e di lavori di messa in sicurezza presso una rinomata struttura ricettiva privata per un importo di quasi 100.000 euro. A seguito di una mirata attività di perquisizione delegata dalla Procura della Repubblica di Messina, è stato impedito che si concretizzassero due distinte fattispecie di truffa, la truffa dei pali e quella consistita nel simulato conferimento a discarica di rifiuti provenienti dal cantiere. Sono in corso di esecuzione e contestualmente sequestri per l'importo complessivo pari ad oltre 230.000 euro.